Signore e signore buonasera a tutti e benvenuti evitiamo la comunicazione di servizi evitiamo i cittadini ospiti a prendere il posto che è un po' e un po' e un po' e un po' e intanto ci vediamo la tropezia quindi mi prego il posto, grazie grazie questa qui è della Mantelli va bene? no, no, quella è no è della Mantelli questo è un tipo milanista è un pallone, mantieni il tipo non è il tipo e il tipo grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.